amiche amici del corner sampdoriano bentornati dopo la sbornia del derby si torna al solito tran tran alla consuetudine di questo campionato cioè di sconfitte scritte nelle attese e rispettate quasi totalmente nell'andamento nella prestazione nel punteggio è una sampdoria che ultimamente è anche molto più forte delle della legge dei grandi numeri perché continua a confermare i tabù ormai più che decennali credo ventennali se così vado un po' a memoria per quanto riguarda le vittorie nella Roma bianco celeste quest'anno anche a Bologna si è confermata la pessima tradizione due a zero contro la squadra di Sarri dopo una partita che non annovererei tra le peggiori prestazioni della Sampdoria quest'anno chiaramente dà fastidio per vari motivi dà fastidio perché il primo tempo è stato condotto in modo onesto in una partita giocata dalle due squadre da due allenatori che lo sappiamo eh si stimano si assomigliano Sarri ha anche insomma aiutato il rilancio della carriera di Marco Giampaolo suggerendolo all'Empoli quando Sarri aveva deciso di andarsene a Napoli e appunto consigliando la dirigenza toscana di prendere il tecnico di Giulia Nova per proseguire il suo lavoro sono due allenatori che lavorano più o meno sugli stessi principi di gioco negli ultimi anni hanno un po' cambiato strada dal punto di vista invece eh puramente degli assetti tattici oggi erano quasi a specchio nel senso che sappiamo già Paolo si è messo da qualche partita da tre partite derby Verona quella prima e oggi con questo quattro cinque uno che assomiglia un quattro tre tre e quindi appunto rispecchia la sistemazione della Lazio gli interpreti sono diversi prima di entrare nelle pieghe di questa partita ci sono due aspetti umorali di questa partita di colore che che si contrappongono dal punto di vista blucerchiato cioè almeno non ha timbrato il classico gol contro la Samp Ciro Immobile compensata questa magrissima consolazione dal fatto che invece ha segnato Patrick non esattamente il pericolo pubblico numero uno della Lazio e neanche tra i primissimi tra i più amati eh nella tifoseria bianco celeste ha segnato eh su un'azione da calcio piazzato che è arrivata in un momento in cui eh ne parlavo anche con i ragazzi nella fattispecie con Dema del nostro insomma degli admin del corner Sandoriano se c'è una cosa tra le tante che dà fastidio quando segui la tua squadra è prendere gol nel finale di tempo anche se è il primo tempo e soprattutto dopo un primo tempo che appunto era stato equilibrato con Lazio che qualche volta era arrivata era riuscita a bussare aveva preso il controllo delle operazioni senza però obbligare Audero a chissà quali straordinari delle parate insomma su tiri da fuori sostanzialmente un'occasione con un tiro di Felipe Anderson deviato però Sandorio anche ci aveva provato con un'occasione per Torsby e una per Rincon che aveva fatto lavorare Stracoscia non a caso ho citato o meglio forse un po' casualmente però torna buono per il discorso per il ragionamento eh abbiamo citato le due mezzali della Samp eh completamente cambiate rispetto al o meglio sono cambiati due terzi del centrocampo rispetto alla gara del derby non c'erano Ekdal non c'era Sensi quindi c'era un po' più di muscolarità con Viera messo a fare il play e Rincon che rientrava dalla squalifica. Rincon e Torsby e mezzali lì si è giocata la partita credo perché Giampaolo ha scelto di giocarsela mandando costantemente una delle due mezzali Torsby faceva la mezzala di sinistra controllando più o meno insomma bazzicando e calpestando le zolle di Milinkovic Savic mezzala destra la faceva Rincon a turno uno di questi due usciva a seconda del centrale difensivo della Lazio che giocava il pallone quindi se lo giocava Patrick gli usciva Torsby addosso dall'altra parte Rincon faceva lo stesso se il pallone lo trattava a Cerbi e questa è stata una scelta con Caputo a supportare questo lavoro sull'altro centrale quello scoperto audace se vogliamo interessante dal punto di vista tattico alla lunga un pochino perdente evidentemente perché la Lazio muovendo il pallone con qualità con facilità con scioltezza rapidamente con sensibilità a due tocchi spostava e trovava sempre o quasi sempre la mezzala sua libera dietro il centrocampo della Samp quindi Milinkovic e Luis Alberto hanno trovato facilmente la ricezione hanno potuto più volte puntare la difesa la linea lucerchiata che ha lavorato discretamente nel primo tempo e è riuscita a limitare i danni come detto le occasioni sono arrivate con Rincon e Torsby ho visto molto in difficoltà Sabiri dopo anche lui la lebrezza del derby deciso con con il gol nel primo tempo del derby appunto oggi è stato tritato è stato molto molto in difficoltà si è stato travolto dalla verve di Lazzari non a caso la punizione del gol nasce da lì perché è vero che il fallo lo fa Ugello ma anche lì Sabide se l'ha fatto superare troppo facilmente e Ugello si è trovato spesso a dover lavorare con insomma una marea che si faceva sempre più alta con appunto Lazzari più Felipe Anderson che lo potevano puntare in velocità è stata una partita nel primo tempo diversa dal solito anche per Ciccio Caputo sempre abbastanza isolato lì davanti ma con il fatto che lo sappiamo la difesa la fase difensiva di Sarri lavora esclusivamente orientata sul pallone noi di solito siamo abituati alla scena di Caputo che viene incontro al centrocampo ma ha sempre l'uomo attaccato addosso che non lo fa respirare lo marca stretto e spesso vince il duello fisico e quindi Caputo perde un sacco di palloni in quel modo oggi tante volte ha potuto ricevere girarsi smistare l'ha fatto anche discretamente bene di questo insomma ne ha giovato la questo ha fatto bene alla manovra della Sampdoria che si è sviluppata discretamente a destra in qualche frangente frangente con Berecinski e con Candreva che hanno dimostrato una buona intesa tutto però chiaramente si è totalmente sfaldato a partire dal gol del 1 a 0 appunto di Patrick perso su questo calcio di punizione insomma c'erano tanti modi per prendere gol dalla Lazio proprio dovendo scegliere per non avere gli impianti avrei preferito avesse segnato Milinkovic Savic con quell'azione dove si era fatto trovare nel primo tempo nel con quella dinamica descritta prima no? Cioè tre quarti campo stop di petto buco tra difesa e centrocampo della Samp bomba di controbalzo di era uscita centrale però insomma avrei preferito vedere quel tipo di gol lì piuttosto che Patrick di testa da solo praticamente dentro l'area piccola in un primo tempo che andava via via spegnendosi con risultato in equilibrio poi nel secondo tempo quasi subito garbage time nel senso che l'allungarsi anche lì la gestione forse non è stata al massimo perché l'allungarsi delle squadre della della Samp soprattutto alla fine ha chiaramente avvantaggiato con gli spazi più larghi la tecnica dei giocatori bianco celesti c'erano Zaccani anche molto molto in palla che ha fatto soffrire Beresinski in una azione del genere insomma in una circostanza con le squadre molto disperse per il campo le distanze perse la Lazio ha condotto questa transizione ripartendo dopo una palla persa della Samp e lì Luis Alberto insomma si è divertito a far fare brutta figura ad Audero prima e a Ferrari poi e chiuder definitivamente la partita che poi la Samp non ha riaperto ha preso un palo a giochi ormai fatti con Quagliarella e devo dire che in questo momento mi soffermerei un attimo sulla figura di Morten Torsby che è un irrinunciabile di questa squadra giocando mezzala sinistra e dovendo essere dovendo avere dei compiti anche offensivi che peraltro nel derby ha condotto e ha portato ha completato bene insomma e non è quello che gli si chiede oggi in una partita di un altro livello dal punto di vista della velocità della tecnica ha sofferto molto spesso se la Sampdoria attaccava lì diventava binario morto e in questo momento sintetizzando la partita nel duello che si giocava da quella parte sul fronte d'attacco centrosinistra della Samp centrodestra della Lazio la distanza tra queste due squadre è rappresentata da Torsby e Savic nel senso che Torsby forse rappresenta un po' la Sampdoria di quest'anno forse un po' ingeneroso come paragone perché lui è stato uno dei migliori però per dire che è un giocatore che a cui forse non si può chiedere di più che che l'impegno ce lo mette che però forse a volte si trova fuori contesto e più di così non può dare dall'altra parte invece un giocatore Milinkovic Savic che rappresenta la Lazio nel senso che grandissime potenzialità grande classe grande qualità forse a volte pecca di continuità e si piace un po' troppo un po' tirato per i capelli questo paragone questo parallelo Torsby Milinkovic Savic Lazio Sampdoria ma insomma avete capito quello che volevo dirvi quindi la lotta a salvezza è ancora da decidere mancano due partite non semplici in cui bisognerà provare sempre a fare punti e non è detto che ci si riesca non è detto che serva farli ma sarebbe meglio farli bisognerà con grande curiosità vedere cosa succede sugli altri campi perché insomma quello che è successo ieri l'abbiamo visto tutti e quindi la partita di ieri ci insegna che può succedere ancora di tutto e diciamo il calcio è bello per questo io vi ringrazio per essere arrivati fin qui quando abbiamo fatto dieci minuti mannaggia aspetta i vostri commenti qui sotto grazie come sempre per l'attenzione e l'ascolto ciao